povera te ma chi te la fa venire con questi anziani come andare a Lourdes qua è la stessa gita è la stessa gita e manca il pullman e basta quelli che devono andare a Lourdes tutti qua davanti Jacopo dov'è Jacopo e la e la dai aspetta che arriva arrivo 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 arrivo